Non tutto è spiegabile, non tutto è comprensibile, la nostra limitata materia grigia si blocca di fronte al mistero, a terrore di dover accettare che non è possibile comprendere che esiste un limite, ma il limite non sussiste quando si parla di magia, le regole pragmatiche del mondo si spezzano al cospetto degli aniqui. Devi seguire dove è la bottiglia, dove è il bicchiere. Scusa Franco, con Martini è sempre così, uno ne beve uno, ne beve un altro e tutto cambia per sempre. E poi quando ne bevi troppo tutto cambia e la tua vita intera cambia e tu non puoi farci niente. Parlate dello spettacolo, iscrivetevi alla nostra newsletter, seguiteci sui social network, che Patrick il Mago ha detto che non posso proseguire. Ma che ti faccio paura forse. Ma che non lo indossavo questo? Guarda com'è. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. Grazie.